Sarebbe morta per un profondo taglio alla gola per la lacerazione della giugolare destra Monia Di Domenico, la psicologa 45enne uccisa in seguito ad una lite con il suo inquilino. Queste le prime risultanze dell'esito dell'autopsia eseguita sabato scorso dall'anatomopatologo Cristian Dovidio presso l'Università di Chieti. La donna, sempre secondo i primi risultati dell'esame utopico, avrebbe ricevuto più colpi alla testa con un sasso ornamentale anche se il taglio alla gola sarebbe risultato fatale per il decesso. Intanto il GIP del Tribunale di Chieti, Antonella Redaelli, ha convalidato l'arresto del presunto assassino che si trova attualmente nella casa circondariale Madonna del Freddo di Chieti. Per Giovanni Iacone, il PM che coordina l'inchiesta Giuseppe Falasca, ha chiesto l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Dall'altra parte il legale della difesa dell'indagato Emanuela De Amicis propende per l'omicidio preterintenzionale, sempre la difesa nominato come perito di parte il medico legale Valerio Baldassarre che ha assistito all'autopsia di sabato scorso. Inoltre la difesa ha anche chiesto un ulteriore sopralluogo sulla scena del crimine. Intanto entro 60 giorni il medico legale Cristian Dovidio depositerà la sua relazione all'autorità giudiziaria dopo aver prelevato campioni di tessuto dal corpo della donna ed effettuato esami radiografici. E nel primo pomeriggio si sono tenuti in forma strettamente privata, così come chiesto dalla famiglia a Corropoli nel suo paese natale presso la chiesa dello Spirito Santo i funerali di Monia di Domenico.